La misericordia non è un cancellino sulla lavagna, come dire tu hai fatto questo, hai rubato, hai tradito tua moglie o tuo marito, non hai educato i tuoi figli, ti sei ubriacato, hai fatto violenza contro qualcuno, hai consumato sostanze superfacenti o le hai addirittura spacciate, ancora peggio. Un colpo di spugna così. No, per poter elargire veramente la misericordia occorre che la persona sappia comprendere il male che ha fatto e sappia comprendere la necessità di aprirsi totalmente a Dio, di lasciarsi giudicare da Dio perché il giudizio di Dio è sempre un giudizio di misericordia. Grazie a tutti.